Sì, Amalia Maria Lica, che lei ha partecipato all'area di massimo livello l'anno scorso per la Romania, conquistando anche degli ottimi risultati. Sì, Amalia Maria Lica, che lei ha partecipato all'area di massimo livello. Sì, Amalia Maria Lica, che lei ha partecipato all'area di massimo livello. Sì, Amalia Maria Lica, che lei ha partecipato all'area di massimo livello.